Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ragazzi Gianco è bravo, continuava a... Ma che sta a fare? Perché ho letto uno che ha scritto stucco per me Stucco del muro, vabbè Gianco, veramente Ma guarda ragazzi, ma che è troia fascista Ti tocca A me? Mi nascerò L'Aionil Messi Tutti i film Lionel Messi Vabbè, ce l'ha scritto a destra però tra gli indizi Ma che dici? Non l'ho visto, porco di Dio Non ci ho fatto caso Devo buttare al culo uno dietro l'altro Ok Invece Closed è proprio a forma di quadrato Io direi... Allora regà, dobbiamo capire come è meno proibitiva Oh no, oh no, oh no Mi sono azzardato ad aprire un secondo la stream di Kaisenath E si è visto un porco dio di paesaggio di Elder Ring E in 18 hanno scritto Spoiler 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 E' spoilerato la lore Mentre che tornate e vedete vostra madre così Dark Souls player Ma che cazzo spoiler di qualcuno Come siete Siete proprio Allora, io farei la votazione Io voto il contene... Ti voto ieri Ti ho pensato almeno una volta di diventare donna Siamo tutti gay non la metterei così perché se no è un po' too much perché non è che tutti perché c'è questa roba che adesso si stanno finalmente accettando un certo tipo di culture di scelte allora tutti in realtà profondamente nel loro essere si sentono così, no non è che perché si stanno cominciando a creare delle parità di sesso più importanti o di genere allora siamo tutti la stessa cosa o bisogna imporre alla gente certe cose no non ho visto che sei nato ti dico la verità, non me ne frega un cazzo quella è ovvia mi interesserebbe capire quanto ce l'hanno lungo questi tu veramente vai oltre ogni limite perché? diciamo direttamente la cosa tra le tante cose che hai fatto era inclusa pure una birretta al T-Space comunque chat non cagate più il cazzo dicendo che il re non è 1.80 perché lo è un piacere rivederla in stream mio re cuore rosso sul passaporto mi hanno messo 1.79 cioè in the irony last is just one time ma che devo fare? porco Dio non funziona con Monti perché c'ha gli occhiali porco Dio è vero ma ero dimenticato l'influencer perdonami tu tu stai dicendo a me che si può giocare? aspetta aspetta che c'è una chiamata forse mi stanno dicendo che hanno aggiunto Martina Dell'Anna come skin nel gioco eh aspetta un attimino devi chiedere a Manuxo non a me andrei che ti peri 27 è il maestro ormai è andato il maestro proprio beh ma beh slovacchia slovacchia ti posso fare allora io posso dire che volevo fare una domanda a slovacchia se è possibile io Manuxo adesso fra due giorni da venerdì ci andremo a divertire in quelle che sono le acque le bellissime acque del sud e magari ci saranno dei party ci sarà qualcosa ma se noi volessimo chiedere a un barman una cosa dove vogliamo fare i fighetti ma gli voglio anche dare fastidio perché è molto probabile non lo conosce come drink che cosa mi vuoi dare trainare già mo è postimato per la fine del gioco è postimato per la fine del gioco non lo so frate non lo so onestamente però la stanza comunque questo questo nuovo Federico lo so che ti fai parte da gente che non molla mai ci voglio bene Federico e adesso ci fai parte no ragazzi il nome del me l'ha rifatta me l'ha rifatta questo la chiude con logo Marzò cosa? eh frate ah si 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 mi è uscito parecchi con Netflix vai capelli grazie grazie veramente lo apprezzo veramente 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 ragazzi veramente orso grazie per il sapritto sulla terraferma sulla terraferma che bello no ragazzi terraferma ok ok no è buggato dobbiamo andare dobbiamo andare andiamo al prossimo salto al prossimo vai let's go games cos'è che si vince nel capitolo cinque di forti già no 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 c'è alla fine finire questo video così ma non oggi forse allora questo kit in realtà dice una cosa che si ho notato e che c'è anche una simpatica roba sfortunatamente io mi sono visto tutto inside out con un tizio dietro di me che faceva lui 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 mi chiamava all'infinito a un certo punto dopo dieci minuti il padre fa un'azione ok e il padre fa si fa e questo da dietro fa lo scuschi è stato molto simpatico solo quella parte la parte dove per un'ora e mezza mi chiamava non è stata simpatico per niente è ormai fastidiosissimo te lo sei goduto il film my man si si mamma mia tantissimo proprio messieto messieto dopo tre secondi messieto mi guardo e mi fanno blu mmm dov'è il king pasca si sta muovendo da sola rubino bacio no rubino per poco rubino per poco no si muove da sola non posso fermarla non posso fermarla no per poco dov'è per poco no non c'è più si che cosa stai guardando scusa in realtà c'è ma non si sa dove cazzo cosa sto guardando gianco tu non hai mai visto rubino per poco tu non hai mai visto per poco di rubino no che cosa è killer ad 11 anni diventa un meme non hai mai visto rubino per poco per poco no non l'ho mai visto no che cazzo dici gianchi ti devo noder te la devi vedere con noi no non mi interessa no perco de dios non faceva così frate impossibile no voglio ancora vivere no vai ce l'ho tatuato nomina un cocktail negroni pex on the beach jägerbomb io dico negroni scusa signorina intanto signorina lei onestamente ma posso farcela fare cosa no raga non c'è niente ragazzi ma senti quanto è cupo quando caso sono stato hittato da uno shirra tensei non so cosa è successo sono scoppiato di sotto perché stavate in tre adatta a spingermi là ma che dici ma scusatemi ma io c'ho cioè io sto in pigiama ma che dici marzo fate vedere arzate un attimo fammi vedere beh quello dai è il casco stavo vestito ieri marzo ma tu non ti puoi più vedere frate io non ti voglio bene lo so che ti dà fastidio ma che è sta luce zi ma chiudi le finestre e metti madonna madonna che pisello porco dio frate ma che era il monte riccardo ciò la fuori madonna che io è il primo gol ufficiale che commento i tutti e quindi insomma va bene così ho visto ho visto proprio i fantasmi sul rigore parato ma va bene così aspe' federi castro te prego te prego castro per l'amicizia cozzano non è deve incastrare un numero alto un numero alto un 5 sarebbe perfetto no Uno Uno senza Un partita normale in GTA con le bici Il video del progetto happiness No Io vorrei la clip Di questa cosa precisa perché sei stato Interessante come l'hai detto Marzò Progetto happiness No Mi sa che hai l'AP un pochino molle Tu è l'AP che è il BF Facottino Noi siamo i negri Ma lui si magna tutto Però c'ha la gastrite Cioè al di là di tutto il messaggio che è giustissimo Però io penso abbia sbagliato La gastrite Del fondotinta Perché così non si fa Allora ma questo lo metti Trequartista sulla Taipei Una hit Io dico No Cioè poi mi spiaggia perché sembra veramente Sembra un miraggio Oh guarda gli atti io te l'ho E io No